Siamo qui per incontrare un galantuomo, Aideen Stagg. Un galantuomo, il signor Stagg, quel furfante, non c'è mai quando serve. Chi lo vuole? Noi. Dov'è? L'ultima volta che l'ho visto, era parecchio impegnato con una certa Maria. Non abbiamo tempo per le tradizioni o per le regole del combattimento leale, perché tra noi Peaky Blinders, qualunque uomo torni a casa da una missione senza aver sparato, paga una multa. Mi chiamo Aideen Stagg. So che alcuni uomini di Birmingham chiedono di me. Ero nel magazzino delle banane, giocavo a calcio con i ragazzi. Ma mi sa che voi non siete qui per tirare calci a un pallone. No. Siamo qui per un'altra faccenda.